Ciao a tutti ghiacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della serie delle sette della stone block 2 Allora prima di fare qualsiasi cosa io voglio andare ed uccidere questi zombie che mi stanno rovinando l'udito Perché tutta questa gente che è qui ma che non dovrebbe essere qui Perché questi sono tutti i buchi che sono stati generati dai chance cube che ho aperto E il problema è che ce ne sono troppi quindi non so dove andare cosa fare Potenzialmente in questa direzione dovrebbero essercene altri Vedete che tipo c'è un botto di ecco di esempio qua c'è un creeper Un botto di pallini gialli qua in giro non dovrebbero esser Ho sentito un rumore strano Ho qualcuno che mi colpisce ok muori Vedi devo levare tutta sta roba da qui e riempirlo di torce perché non è normale che Capito uno va in giro e si trova 12 milioni di mob rumori sono sti mob Dove li vedo ok qua non ci sono qua non sono gialli sono qui Dove sono io non li vedo Poi sono anche qua dietro in qualche modo c'è una caverna magari non lo so Magari esiste non lo so qualche Qualche oggetto che funziona tipo x-ray qualcosa del genere Però che qua a me non è che interessi molto tenere una Un'estetica decente che c'è un bunker deve solo essere resistente Però più scendo Forse qua sotto a questo punto Io a sentire li sento ragazzi cioè dentro al bunker non dovrebbero essere O sono invisibili o sono sotto Forse sono sotto il bunker Dobbiamo andare sotto Facciamo tipo di qua Andiamo sotto così Ah Buonanotte tutto bene amici Morti tutti Quanti erano Oh attenzione attenzione 12 milioni di mob Ah Che goduria un po' di silenzio E comunque c'è qualcun altro Siamo attenti che c'è la roba nuova Sono sotto di qua Eccoli Capitani Tutto a posto Morite un po' Quanta gente Ecco Devo prendere il vizio di lasciare sempre torcia a manetta ovunque io vada Che non è possibile Cioè ho lasciato Fk tutta la notte di nuovo per raccogliere i MC Per farmare anche tutte le cose che mi servivano per Come si dice Il pink slime ingot Ora vi faccio vedere tutto Praticamente ho fatto bridare le Accoppiare le mucche Nessun altro vero? Nessun altro che spawna? Tutto a posto? Tutto a prova di spawn? Ottimo Cacciamo questo qui e siamo contenti Ho in elementare un botto di roba che non serve Che ora andrò un attimino a buttare Quindi fai qualsiasi cosa Vabbè la cobblestone posso metterla qui Tanto non è che Fami a qualcosa Ok anche se mi piacerebbe arrivare ad avere un octuple Magari io lascerò acceso questo ogni tanto Per fare l'octuple coso Avete detto su rifai quello là di sugarcane Però se io vado a vedere Sugarcane Ecco sti cosi qua L'octuple compressed sugarcane fa un miliardo e trecento e quattro No Si Un miliardo e quattrocentomila Che è tanto È tanto potenzialmente Però se io vado a vedere invece C'è la cobblestone Compressed cobblestone Questo mi fa Ah 43 milioni In effetti allora quello della sugarcane È tanta roba Però c'è da capire Quanto effettivamente Quanti blocchi abbiamo bisogno per fare questi Eh perché non è poco Sesto Quinto Quadruplo Triplo Doppio E compressed Abbiamo bisogno di un botto di sugarcane Le sugarcane se ci sono modi molto semplici per farmarli E sicuramente si possono farmare più facilmente Della cobblestone Perché la cobblestone si può andare veloce Però comunque Ehm C'è anche un problema di trasporto dell'oggetto in sé Non lo so Secondo me Queste due farm che ho di dragon egg Sono la cosa più comoda Considerate che Un octuple coso Magari ci metto delle ore a farlo Eh Dragon egg Ne sto facendo davvero tantissimi E con la media di cento Cento milioni al secondo circa Cinquanta Cento milioni Guarda sono quasi a tre miliardi Vuol dire che ora posso craftarmi anche la mia stella successiva Quindi nel senso Siamo a un buon punto secondo me È tutta una questione di o creare altre farm di questo tipo Perché a mio parere potrebbe essere davvero la più efficiente Ehm Oppure provare a fare qualcos'altro Magari con le nere di star O comunque però Un oggetto che abbia un EMC value Che è abbastanza alto Farlo con le sugarcane Se qui devo farne migliaia Anzi più di migliaia Devo fare milioni di sugarcane Per raggiungere un livello decente Tipo una sugarcane normalissima Quanto ha di EMC value? 32 Quindi è 32 volte il valore di un pezzo di cobblestone Perché un pezzo di cobblestone Ne ha uno come EMC value Quindi è il 32 volte tanto Però se vado a ragionare in questo senso A quel punto un dragon egg Cioè un dragon egg Che ci metto davvero poco a farlo Se considerate la velocità di queste farm È un milione Quindi è un milione di volte Quello che mi fa un pezzo di cobblestone E eh 30 volte tanto Non lo so 300 volte tanto Non so Non so qual è il calcolo 300 volte tanto Quello che mi fa una sugarcane Eh Quindi capite che è tanta roba Cioè è tanta tanta roba Anzi forse 3000 volte tanto 3000 volte tanto Non lo so Comunque un botto di roba in più Rispetto alla sugarcane Alla cobblestone Quindi terremo Questo sistema Qui stiamo facendo comunque Un botto di Neutronium Ingot Che comunque fa piacere Fa piacere direi anche alla grande Perché ci serve per fare un botto di roba Eh Direi che possiamo bruciare Un po' di tutta sta merda Che c'ho nell'inventario Però mi serve Non posso bruciarle queste? Ah ok Si era bloccato Eh Queste non posso fare nulla Eh Teniamo nell'inventario Solo le cose strettamente necessarie Come al solito Le frecce non ci servono assolutamente a niente Bruciamo le vive E diamo via invece Tipo la creeperhead La clay loot crate Roba che non ci interessano proprio minimamente Allora stavo dicendo Ho creato la pink slime cow Eh Ho combinato la molten obsidian Con L'acqua No spero No il blue slime Con la Non mi ricordo cosa è che ho fatto Andiamo sulle fluid cow Abbiamo combinato Per ottenere Perché non me l'ha data? Perché non mi ha dato la Il task? To be completed Pick up the cow With the cow halter L'ho pickuppata L'ho messa dentro la stall Obsidian e blue slime E io lo Prendiamolo Ce l'ho In cohalter Liquid purple slime Cos'è quello che devo fare io? Purple slime Allora vedi che sei stronzo però Non è che posso rifarne un altro ora Vabbè blue slime e obsidian Facciamone un altro Facciamo un altro E poi lo mazzo Nel senso Questo è quanto Blue slime e obsidian Vai Accoppiatevi Fatemi un altro amichetto Tanto ci metterà un po' a crescere Devo prendere anzi Devo prendere assolutamente Un po' di Devo prendere un endertank Sicuramente Perché ne ho già messo uno qui Per collezionare un po' di roba Però non basta Prendiamo anche Un conduit Pressionizzato Tipo di questo qui Ne prendiamo un paio Che devo collegare Prendiamo anche Del Wet Del wet Si wet Il cacchio sto Di wet Vabbè insomma del grano Mettiamo il grano qui Non c'è abbastanza acqua Io devo andare a vedere Come è colorato Il tank Che c'ha l'acqua Che ho messo in fondo Di qua Se non ricordo Attenzione Attenzione Abbiamo troppe Troppe cose E con l'azzurrino Nel mezzo Ok Ce l'ho light blue Dovrei averlo Esatto Allora intanto Aggiustiamo questo Poi andiamo a inserire il resto Mettiamo uno di questo così Con un pressurized tank Che passa tutto l'output Non so se funziona Magari funziona anche senza Magari ha un input diretto Io lo giro Esatto Quindi abbiamo comunque Ora l'acqua Mettiamoci il grano Così fa le sue cose Senza problemi E poi potenzialmente Possiamo metterci Una cesta piena di grano Cioè non ci interessa In modo che sia completamente Automatizzato sto sistema No mi ha trovato blue slime Bastardo Vabbè Comunque Andiamo un attimino lì Perché devo modificare una cosa Devo prendere dei Item filter Basici Questo è un advanced item filter Posso prendere uno normale Filter No qua c'è il power item filter No io volevo Il filter normalissimo In realtà Che devo solo Prendere l'input Vabbè craftiamolo Allora cambiamo l'impostazione Di questo macchinario qui E mettiamo che caccia tutto E in input Filtro Così possiamo Mettere diverse cose Dappertutto Quindi facciamo così Mettiamo da una parte Il fertilize essence Che sarà qua su Anche la nostra Branch Crescent hammer Leviamo l'advanced item filter E di qua Invece mettiamo in input Questi qua Prendiamo uno di questi Facciamo così Mettiamo il filtro Giusto nel caso Dovesse pickuppare qualcos'altro E lo mettiamo qua Questo era whatsapp Che voleva salutare Ok Ora doveva funzionare tutto Uh damn Questo non dovrà succedere Ok così stiamo scaricando Tutta la fertilize essence E va bene E di qua Dovremmo ricevere invece Questi qua Che invece non sta dando Perché forse deve risultare Prima questi Parca vacca È lunga come cosa Quindi diamo priorità Priorità uno A questo qui Funziona? Priorità due Ok non sta funzionando Come me lo immaginavo Va bene Lasciamolo lavorare un po' Magari Magari dopo che ha levato Tutte le shard Non tutte le shard Tutta la fertilize essence Inizierà a fare invece con le nether star essence Magari funziona Cioè a livello logico Doveve funzionare Questa cosa che ho fatto Io esporto tutto E nell'import Vado ad inserire un filtro Quindi di qua metto solo le robe Della nether star E di qua tutto il resto Doveve funzionare in teoria Fatto sta che ci troviamo a 3 miliardi Di EMC Direi che possiamo Craftare La nostra quarta Colossal star Zwei Che ci ha costata Un altro milione e sette Praticamente Andiamo a combinare le quattro Per creare Una Colossal star Hardrai Poca vacca Questa sono 6 miliardi No ragazzi è greve la situazione Sono 6 miliardi No che cazzo dico Di più Sono 6 Bilioni Sì sono 6 bilioni 6 bilioni e mezzo Per fortuna È una e meno Nella lista di cose da fare Cioè stiamo giugendo livelli Davvero alti Di EMC Ogni episodio diventa sempre più difficile Da registrare Spero di riuscire a tenere Il ritmo di un episodio al giorno Comunque Detto questo Allora parliamo di affari Per fare questa bellissima cosa Che si chiama Transmutation tablet Che ha 300 miliardi di EMC Abbiamo bisogno di un paio di cose Che non abbiamo Possiamo craftare tutto quello che avete qua dentro Compreso l'infinity ingot Perché è un processo lungo Ma possiamo farlo A parte la roba del cibo Che lì non lo so come faremo Però va bene C'è una cosa solo qua dentro Che non posso craftare Cioè l'HDPE sheet Sheet non vuol dire merda In questo caso Ma vuol dire Tipo foglio Ok Lastra forse Un termine più adatto Per fare sto cosa Abbiamo bisogno di un enrichment chamber O Vabbè Abbiamo bisogno del pellet Di HDPE Per fare il pellet Abbiamo bisogno di questo meccanismo Che è la Pressurized reaction chamber Con etilene liquido E ossigeno Con dentro lo substrato Allora a me me ne serve uno Una volta che ne ho fatto uno Dubligo tutto con gli EMC Non me ne frega un cazzo Quindi partiamo dal Pressurized reaction chamber Chamber Vabbè vabbè Ce l'ho sto basic control circuit Che sono un botto di roba Che io in realtà Dovrei già aver fatto Ma che evidentemente no anche Allora È il momento di tornare a craftare Signori e signori Contenti? Contentissimi Allora Pressurized Reaction chamber Per fare questo ho bisogno Allora Ho bisogno dell'infuser metallurgico Questo è poco Ma secure Lo prendiamo E lo piazziamo Questo non ci serve Cos'è sta roba? Building gadget Chi me l'ha dato il building gadget? La posso costruire fino A che ficata? C'è diverse modalità? Bella Una roba nuova Non ce l'avevo prima Ok È della stessa modo Immagio si è dato Building gadgets Allora Piazziamo il metallurgic infuser Che dite? Ma potremmo fare una stanzetta dedicata? Cioè magari non dedicata Perché non ha senso Però magari potremmo metterle qui Allora Mettiamo il metallurgic infuser Mettiamo anche dietro un flux point Mettiamo qua in alto Lo colleghiamo al nostro bellissimo network Di energia main Prendiamo i nostri bellissimi conduit Quelli là rosa Cattivissimi Proprio questi sono gangster E li mettiamo qua dietro Ok Perché non so quanti macchinari Avrò bisogno di Di piazzare Ora che abbiamo questo sistema Posso Ho l'energia Giusto? Ha bisogno anche di redstone Non solo di energia Abbiamo un po' di redstone Uno stacchino Lo metti qua dentro Lui prende tutto il carburante E siamo contenti Ottimo Allora ricapitoliamo Per fare questo Presurare il reaction chamber Abbiamo bisogno di un botto di roba in realtà Allora Queste cose possiamo farle Quindi Calma tutti quanti Iniziamo a craftare Che forse è meglio Dynamic tank Posso farlo? Posso farlo E lo aggiungiamo alla lista Poi Questi qua Posso farne? Posso farne sì Ne prendiamo due Ok Non possono essere manco staccati Stealingot Sembrerebbe Che io ce l'abbia Direi di sì Aspetto Per non saperne leggere Né scrivere Ti dirò Che io lo salvo Nella IMC table Perché questo è un po' più complicato Da fare Cioè E palloso Più che altro E ce l'abbiamo E Cosa ci manca? Ci manca Un enrichment chamber Che è questa qua Devo farne un'altra No Ok Io ce l'avevo Un enrichment chamber Però Devo craftare un'altra Ma no Perché mai Prendiamo Enrichment Ah è quella che ci ho attaccato di qua Molto semplice La stacco e la duplico Che bella la vita Con la IMC Proprio È proprio una bella vita Proprio una bella vita Bellissimo Ok Facciamo così Riattacchiamo Anzi Ma già che ci siamo È della stessa mod Mettiamola qua vicino Che ci frega Boom Abbiamo un enrichment chamber Ne prendiamo un'altra Per il crafting E lo mettiamo Da parte Ora Quando io provo a craftare Sto cosa Mi manca Tutto No scusa Enrichment chamber L'ho appena craftata Vabbè Non se la calcolavo Basic control suite Ho bisogno di un paio Di osmium ingot Ma non è un problema Ne ho 5000 Buon inizio Vediamone un po' di più Perché tanto so già Che mi serviranno Mettiamo qua dentro Mettiamo a lavorare Anche se è lento Come la morte È bello che qua Potevo fare degli upgrade Ma non mi ricordo più Come si fa Non se leccio No come io l'avevo fatti Upgrade Supported Ah Anche gli speed upgrade Normali accetta E se io prendo No No ok Questo è proprio un'altra moda Non avrebbe senso Perché dovrebbe accettare Io ho visto un'iconcina brutta Supported Muffling Speed Come ottengo sto speed Ok mi sembrava questo qua Della renderiaio Speed E vabbè Speed C'ho 48 pagine Come cacchio faccio A trovare lo speed Di sta roba Come si chiama la mod Meccanismo L'avevo già fatto Ma non mi ricordo Completa Eccolo qua Speed upgrade Ah e dai Non costa neanche tantissimo E ce ne Se ne possono mettere diversi Vabbè dai Non è un problema Ok abbiamo due di questi Li aggiungiamo Alla lista delle cose da fare Per fare la pressurized A parte sto casino Che si sente sottofondo Ho bisogno anche Di un enriched alloy Ma dovrei averlo Non ce l'ho Prendiamo Come si fa l'enriched alloy Bella domanda Un pezzo di ferro Gang Dov'è il mio ferro Avviamo questo Potrebbe essere utile E possiamo craftare Il primo passaggio Che è questa reaction chamber Ottimo E la piazziamo Guarda qua Ma a me sembra davvero Un laboratorio Questi macchinari Ora Dobbiamo capire Cosa ci serve Ha solo tre ricette Sta cosa che può fare Tra l'altro E l'abbiamo bisogno Del pellet Per fare il pellet Cambiamo gli ingredienti Quindi abbiamo bisogno Di ossigeno Come ottengo l'ossigeno Di water Porca va Abbiamo bisogno Di un electrolytic Separator Electrolytic core Ma si si può fare easy Prendiamo tipo Un paio di stack Di alloy Che ho visto Che ne serve un botto Abbiamo anche L'electrolytic Separator Ora abbiamo capito Come fare l'acqua pesante Che non so Magari è l'acqua Quella che apri Lascio in macchina Per un giorno intero Quando vai al mare Non lo so Allora Heavy water Bella domanda Per fare l'heavy water Abbiamo bisogno Di un fluid transposer No No Allora Secondo la wiki Abbiamo bisogno Del Electric Pump E' la meccanismo Che io qua non vedo Però Electric pump Eccola Non è neanche troppo difficile Da craftare E che cos'è che stiamo facendo Perché io sto facendo Si chiama top down Da un top Non lo so Sto dando dalla base E sto ricostruendo la strada Fin in cia Non sto capendo molto Un electric pump Perché ho l'impressione Che l'electric pump Deba in qualche modo Essere collegata Dell'acqua O Meglio ancora Deba essere collegata A sto coso E quel blocco Sembra proprio Che debba essere No E scusa Girati però Che cacchio Ok Io posso mettere Il liquido direttamente Dentro Che è una cosa positiva Posso girarti Ok Ok Ora è collegato Non so se è collegato bene Ma è collegato Se per inciso Io vado a prendere Dell'acqua Dal mio amichetto Qua Ok Esiste un filtro Che separa L'acqua pesante Dall'acqua normale Ho bisogno di Un tin powder Vediamo un pezzo Di tin Che casino ragazzi Ok Abbiamo un filter upgrade Ma abbiamo paura Di usarlo E la pump Ce l'ha capito Un attimino una cosa Però No Allora dammi il filtro Grazie Sto tallando il filtro E abbiamo il filtro Nel momento in cui Io metto l'acqua E se l'acqua Dovesse stare sotto Di niente ragazzi Quindi Io se lo faccio così Questo funziona Heavy water Ok Non ha bisogno Anche di energia Però sto cosa Sennò non funziona Quindi prendiamo Altri conduit Cosa sto facendo Mamma mia Consuma l'acqua Da sotto Tra l'altro Ok Ora dovrebbe ricevere L'energia Non riceve un cazzo Ok Ora riesce a reggere Il colpo Non so perché Ma prima non funzionava Ah Questo deve essere collegato L'energia Ok Ora magari si Ha senso Fatto sta che stiamo Generando lentissimamente Allora prendiamo Nostro termina botto Che vi faccio andare A tipo 50 ore di gioco E ne usate già tantissime Ok Così produciamo Un botto di heavy water Che posso poi raccogliere E mettere di qua Ok Ora sto coso sta lavorando E sta creando Sia il deuterium Che l'ossigeno Io ho bisogno Di un bucket Di ossigeno Giusto Mi sembra di sì Vediamo un altro di questi Mettiamolo di qua Che casino sta succedendo Ok Mille Mille dovrebbe essere Un secchiello Non me lo dà Non posso prenderlo Col secchiello Mi stai dicendo questo Ah A parte che bastava Anche solo l'acqua Mannaggia Ho visto la ricetta sbagliata Ok Niente Devo disfarmi di sta roba Perché non mi serve Cioè Potenzialmente Per fare tutto questo Tutto sto casino No Dai come posso scaricarlo Dumping excess Dumping Ok Sta levando tutto Dove le sto levando Non si sa Però sta levando tutto In questo modo Se vado insieme Dell'acqua normalissima Ottengo sia Idrogeno Che ossigeno Che è ciò di cui ho bisogno Otteniamo idrogeno E ossigeno E questi Li passerò qui Sono gas In teoria Ho bisogno di Conduit appositi Insomma Oh merda Ho cliccato per sbaglio Sul tipo Non volevo Eh vabbè Vediamo un altro secchio Ora Craftiamo dei gas Conduit Ok E dobbiamo fare questo passaggio Qui in teoria Ok Non ho più Una idea di come funzioni Sta roba Proviamo così Questo in output Questo in input Posso decidere Che input E che output Però quando me lo fa Decidere ad esempio Allora Quanto pare Abbiamo bisogno Per forza Di questo tipo Di roba Cioè Di quella Della meccanisma Senza quella Della meccanisma Non funziona E manca Lo still Per fortuna Che l'ho salvato Allora Qui entra il rosso Abbiamo detto Perché non funziona Ma sto coso Oh mamma mia Ah Ora funziona No Dai forza Non riceve l'input Che devo Transport Dark blue Allora A quanto pare Con questa mod Il lato Da cui inserisci Le cose È essenziale E ora sto Inserendo le cose Ora sta creando Ossigeno Lui in realtà Con l'acqua Non voleva neanche L'ossigeno Io Non è che devo Levarlo Da qui L'ossigeno Altrimenti Non è felice Io non sto capendo niente Mi giuro Non sto capendo niente Giallo Questo ora è vuoto Ma qui non c'è nessun input Porca vacca Tu vuoi dimmi che serve l'idrogeno E non l'ossigeno E io l'ossigeno perché l'ho fatto Mi serve l'acqua quindi Mi serve davvero un liquido Ora Ricordi logica Se io faccio così E faccio così Oh madonna Giallo Porca vacca Ok ho messo tutto giallo Così ho ottenuto Dell'acqua Ok Che fatica Che fatica Biofuel Ok Per ottenere il biofuel Devo Devo usare il crusher Il crusher ce l'ho? Bella domanda Ce l'ho Credibile Stiamo calmi Pettiamolo qua Usiamo delle cose che non serve Prendiamo un po' di Tipo cactus Dovrei avere un cactus da qualche parte Lo salviamo comunque nell'emc table Anche perché siamo qua da un'ora Non vorrei rischiare di dover perdere altro tempo Ne prendiamo un po' Tanto ripeto a tutti Io devo solo sfruttare il mio emc Abbiamo il crusher Bruciamo sta roba Cioè spacchiamola proprio Ma cos'è sto rumore? C'è un martello Ah si è il martello giustamente Ok abbiamo due biofuel Che metteremo qua dentro E questi verranno trasformati Utilizzando Che troppa roba In substrato Ora Tutto questo casino per fare il substrato Ma il substrato Io devo trasformarlo In hdpe pellet Per fare ciò Ho bisogno di ossigeno E liquidi etilene Quindi Quindi Stiamo calmi Molto calmi Ho bisogno dell'ossigeno Quindi devo svuotare sto coso Io anche La mia domanda Solge spontanea Se io rompo sto coso Dimmi che Mi leva tutto Così non devo Cervellarmi per fare l'output Dimmi di si Porca puttana C'è manco più ossigeno io Iniziamo a mettere qui Acqua Così si riempie E facciamo Un bel po' di ossigeno Che ci serve l'ossigeno E poi ci serve anche l'etilene Vi dirò la verità ragazzi Però così Me ne faccio una No Non c'è un MC value Mi ammazzo Qua c'è scritto che il liquido Non me lo può levare Cosa vuol dire che non me lo può levare? Allora ragazzi facciamo così Vediamo un gas tank Questo dovrebbe essere l'output Lo attiviamo Ok mi hanno suggerito Dalle wiki di craftare questo Un gouge dropper Perché mi servono altri glass pane Ma le craftiamo no problem In teoria questi Se me ne faccio due Posso rimuovere le cose da qui E ho capito Quanti me ne servono Gaffiamone un po' va Ah ok si infatti Stavo leggendo che Non avrebbe senso Far si che sia Inutilizzabile poi Infatti puoi Ricliccare Con il tasto destro e shift Per svuotarla sta cosa Quanto sta che sarà Porca va Che già editare sto video Mi verrà un Qualcosa Mi verrà Eh posiamo tutta sta roba Tranne uno Che mi servirà Sicuramente Perché sbaglierò Con qualche input E questo non mi serve più Questo non mi serve più Anche perché non funzionava Allora Stiamo calmi Io ho bisogno del substrato Il substrato Per renderlo Il pellet Ho bisogno di Ossigeno Che ho Perché l'ossigeno ce l'ho Devo solo controllare bene l'output Aspetta stoppiamo tipo nel mezzo Perché non vorrei Dover rifare tutto Perché se mi manda l'ossigeno Mi incazzo Ok diamo questo In extract Ok Questo dovrebbe essere Ossigeno Stai entrando? Ok C'è dell'ossigeno Poi Poi perché non è mica finita Abbiamo bisogno Delle etilene Orca vacca Ottimo L'etilene era il Prodotto di scatto Di tutto quello Che ho fatto finora Porca vacca Qui devo produrre Più Più substrato Per forza Allora Prendiamo sta roba E la teniamo da parte Vediamo questo Che non ci interessa Per il momento Andiamo a prendere Un po' di Per futuro Che non li ho buttati Tra l'altro Vediamo un po' di quelli là Con l'idrogeno E un po' di quelli là Con l'acqua Ah non me lo fa manco più mettere Pezze di merda Giuro lo sto odiando questa mod Bellissima tutto quello che vuoi Ma lo sto odiando Quindi dobbiamo riempire di Idrogeno e acqua Come prima Always active Ok Leviamo questo da qui E lo inseriamo Qua sopra Mettendo come input Dei liquidi Sopra Mettiamo tutto come input Dei liquidi Non si capisce un cazzo Ora Prendiamo altro biofuel Che non basta Quindi vediamo altro cactus Anche Poi non so Di preciso quanto Me ne servirà Quindi io inizio a fare Poi vediamo Etiliane 200 Quanto etiliane mi serve Per fare uno Un pellet Non lo so Non lo so Posso prenderlo Con il gauge dropper Posso E' stato un errore Ah no Col destro Posso rimetterlo col destro Prendi per in giro Ah no Col destro Potevo mettere le robe Mi viene la rabbia Mi viene Sono qui da un'ora e un quarto Ragazzi Oh boh Sai che Secondo me Potremmo esserci Cioè potrebbe bastare 400 di etilene No Non basta mai Nella vita Scherzavo Perché non me ne fa più Perché non è energia Come cacchio fa senza energia Ok ho bisogno anche di un Rotary condense Mamma mia Ok Ci abbiamo anche questo Che serve a trasformare Le cose in altre cose Colleghiamo tutto Ok collegato Ora ho 1200 Se io prendo 1200 di questi E li metto Qua dentro Me lo genera? Me lo genera un liquido etilene? Ok ho uno intero di liquidi etilene Raga dovremmo esserci Stoppa tutto Leviamo tutta la roba da qui Ho il mio liquidi etilene L'ossigeno ce l'ho Devo solamente levare tutto il resto Vabbè Che fatica ragazzi Che fatica Quando sono un mod Poi che non conosci Ancora peggio Già io non le conosco tutte le mod Quando è una mod tutta nuova così Che devo fare Tutto quello che si può fare Nella mod Per ottenere un blocchettino schifoso Che non c'entra niente In quella ricetta Mamma mia Che sclero Ok leva sta roba qua Non ci serve più Ora Ho altro liquidi etilene Figlialo Mettiamo Liquidi etilene Liquidi etilene Poi ho bisogno di ossigeno Che posso prendere molto tranquillamente da qua E inserire qua dentro E ora Senza Indugio Crucio ossigeno E quindi ho bisogno di rimuovere questo Ora parte Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo capitani Tutto per sto pezzettino di merda Ah Ah Oh mamma mia Prendine 12.000 stack Ah no Anzi vabbè Non aveva senso Perché devo prima fare così Abbiamo una sheet Vai facciamo tutte le sheet Del mondo Alleluia 48 Le salvo E tutta stravola Ma andiamo a quel paese Che fatica ragazzi Che fatica Porca vacca Diamine Che fatica davvero Vai Spacca tutto Non mi interessa più niente Qui via Leva 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 Ragazzi Per questo video Lunghissimo è tutto Io vi saluto Ce l'abbiamo fatta Ciao a tutti Tutti Ciao a tutti Autore dei sorrisi